Articolo 143,2 del Regolamento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio del Sette. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Saluto e do il benvenuto al Generale del Sette, che ringrazio per la disponibilità di essere nuovamente presente qui con noi, per il seguito della sua audizione, che come ricorderete è avvenuta il 2 dicembre scorso. Ricordo che in quell'occasione il Generale del Sette ha svolto un'ampia relazione sullo Stato e l'attività dell'Arma e si è concordato a rinviare poi una successiva seduta alla fase delle domande e di far pervenire queste ultime al Generale in anticipo rispetto alla seduta di oggi, in modo da ottimizzare i tempi. Ricordo infatti che l'audizione dovrebbe concludersi intorno alle 15. Sono pervenute da parte dei deputati numerose domande che sono in distribuzione. e quindi, dato che le domande appunto sono diverse, non perderei altro tempo e darei la parola al Generale per le risposte. Grazie. Ho avuto complessivamente 31 domande e nell'ordine in cui mi sono pervenute io proverei a rispondere fermo restando che lascerò, buonasera, lascerei, se il Presidente è d'accordo, poi uno scritto con tenente le risposte. Saluto tutti, saluto il Presidente, saluto tutti i membri della Commissione e ringrazio per l'attenzione che è stata rivolta all'Arma dei Carabinieri anche attraverso le domande che sono pervenute. Grazie di cuore. Allora, nell'ordine in cui le abbiamo ricevute, io risponderei, se è così. Io ho due domande pervenute dall'Onorevole Lacuaniti, poi alcune domande dall'Onorevole Artini, altre domande sono da due a undici, nove sono, no, otto, otto, prego, otto, otto. Invece poi c'è l'Onorevole Basilio con otto domande, o nove? Nove, e quindici, no, otto, e l'Onorevole Rizzo con otto domande anch'esso, poi ci sono alcune domande del Partito Democratico, una, due, tre, quattro, cinque, questa è la cosa. La prima delle domande, le domande sono alcune molto argomentate, non so se è necessario che le ripeta io, oppure dico un po' la sintesi. Bene, la prima dell'Onorevole Lacuaniti è relativa alla tipologia, modalità, tempi previsti per l'addestramento del corpo forestale dello Stato che transiterà nell'arma dei carabinieri e in particolare di quello destinato all'organizzazione forestale ambientale agroalimentare. bene, a riguardo posso dire che stiamo prevedendo che a favore del corpo forestale dello Stato che transiterà nell'arma dei carabinieri dovrebbero essere svolti dei corsi diversificati la cui durata e compiuta articolazione stiamo cercando, definiremo nei prossimi mesi d'intesa con il corpo. Verranno attagliati ai vari ruoli, dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti, assistenti, periti, revisori, operatori e collaboratori e alle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che hanno e che avranno. La tempistica delle attività terrà conto dell'esigenza di fornire nel più breve tempo possibile le cognizioni necessarie, quella di garantire al contempo la funzionalità dei reparti di provenienza senza interruzioni. L'avvio a brevi cicli formativi sarà perciò scaglionato. A fattor comune per gli appartenenti al corpo dovrebbero essere previsti cenni sull'articolazione ordinativa e i compiti dell'arma. Poi dovrebbero essere impartite nozioni tecniche per garantire la piena interoperabilità dei sistemi di comunicazione, portali, ingegneri, supporti operativi e tecnologici, quindi affrontate tematiche connesse con l'acquisizione dello status militare. L'approfondimento di altre tematiche tecniche, così come avviene per il personale dell'arma, per il restante personale, potrà essere affrontato con successivi cicli didattici nei reparti di impiego, ovvero presso listi e per la polizia giudiziaria specialistica e presso il COESPU. Questo per il raccordo con forze di polizia di altri paesi. La seconda domanda è, in relazione ad alcuni suicidi, se siano previsti per gli appartenenti all'arma uno streaming di natura psicologica al momento del ruolamento e assistenza successiva di sostegno continuativo nel tempo durante la vita professionale anche in relazione all'uso delle armi. Posso rispondere senz'altro di sì. Allora, i casi di suicidio lo scorso anno sono stati 10, mediamente negli ultimi anni sono stati un po' di più, 13 mediamente. L'anno scorso sono stati 10, quest'anno 3, due ufficiali e un appuntato. Nessuno di questi casi mai è stato comunque connesso dagli iscritti lasciati o da altre situazioni ad esigenze a questioni di servizio. Posso dire, per i 10 dello scorso anno, 5 riconducibili a motivi familiari, 3 a problemi di salute, 2 cause non note. Comunque non riconducibile e a questione di servizio, per quanto è stato accertato. 7 sono stati attuati con l'arma d'ordinanza e 2 con una pistola privata, 1 per impiccamento. Da tempo il Comando Generale ha intrapreso un'analisi attenta del fenomeno per l'individuazione delle situazioni potenzialmente critiche e la prevenzione. Il primo screening è inserito senza altro nella procedura per gli accertamenti sanitari durante le prove concorsuali. Gli aspiranti vengono sottoposti a visita psichiatrica, la quale deve mirare ad accertare il possesso dei requisiti minimi di idoneità e quindi ad accertare il normale funzionale assetto della struttura della personalità, nelle sue varie componenti intellettive, affettive e comportamentali. I candidati che risultano in possesso dell'idoneità psicofisica cedono alla fase di valutazione attitudinale, nel corso della quale i test di personalità somministrati vengono valutati da un ufficiale psicologo e quindi evidenziati punti di forza e criticità. L'aspirante quindi per ultimo viene esaminato da una commissione composta dal Presidente del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e da un altro psicologo e da un altro perito selettore che valutano in particolare lo psicologo il requisito della stabilità emotiva in chiave attitudinale. Dal 2014 è stato istituito un gruppo di studio permanente presso le scuole, composto da quattro ufficiali psicologi che ha somministrato in tutti i reparti di istruzione due test di personalità, il primo in prossimità dell'incorporamento e il secondo dopo un periodo di addestramento. Chiaramente lo scopo è quello di verificare l'interiorizzazione dei valori della cultura ed intercettare eventuali situazioni di disagio. Nel 2012 è stata diramata un'apposita direttiva dalla Direzione di Sanità del Comando Generale, criteri guida per la prevenzione nei casi di disagio. È stata accompagnata la diramazione da una circolare nella quale è stato richiamato come questo fatto, queste situazioni debbano avere carattere di priorità, essere trattate con priorità. Nel 2013 è stato potenziato il servizio di psicologia medica ed è stato previsto di assegnare psicologi nelle nostre infermerie presidiarie, cioè nei comandi di legione, oltre sul territorio e questi psicologi sono già in azione in quasi tutte, e tre medici e psichiatri referenti, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud. Nel 2014 ancora una nuova linea di indirizzo clinico-gestionale da parte della Direzione di Sanità per le Infermerie Presidiarie e quindi un'attività formativa a favore di ufficiali e psicologi sui fattori del disagio, attività che quest'anno ripeteremo. Dal 2015 il Centro Nazionale di Selezione e Recrutamento supporta le infermerie presidiarie per la fornitura e la correzione dei test di personalità somministrati ai militari in servizio. Quest'anno, dal 2016, ho istituito l'Ufficio Condizione Generale del Personale alle mie dirette dipendenze, che è specificamente orientato a sostenere l'azione del Comandante Generale a favore del personale nel suo insieme e con riferimento ai vari ruoli e ai singoli. anche per l'individuazione delle tutte le situazioni e potenziali di disagio, siano essi attenenti a difficoltà economiche, contenzioso con l'amministrazione, disciplina, procedimenti penali, collocamento in congedo e altro. Generale, posso fare una proposta per snellire i nostri lavori? Chiederei soprattutto ai colleghi che hanno avanzato più quesiti di selezionarne, per avere la risposta qui in Commissione, direttamente dal Generale, un paio a testa e per gli altri sarà distribuita la risposta scritta e comunque sarà poi trasmessa e resa disponibile per tutti i colleghi. Sarà pubblicata nel resoconto della nostra audizione e consultabile da tutti. Quindi chiederei all'onore Bertini di segnalare le due più importanti così perché altrimenti con l'impressione ne riusciremo l'altro. Era la stessa idea, avevo fatto il conto sui minuti, era praticamente impossibile. Io a questo punto segnalo al Generale che ringrazio, vedendo quali sono state le risposte verso il collega Laquaniti, penso che l'ampiezza delle risposte sia veramente totale. Mi interesserebbe quella dell'accorpamento dei servizi aerei e sui carabinieri ausiliari. Grazie. Allora, mi si chiede appunto qualcosa in ordine al raggruppamento aeromobili carabinieri, la possibilità dell'accorpamento, che cosa succede col corpo forestale e dell'integrazione poi con gli altri servizi aerei delle altre forze di polizia. Allora, noi dovremo procedere nella razionalizzazione dei siti secondo un programma che definiremo d'intesa al tavolo interpolizie. E' previsto nella schema di decreto legislativo che si debba procedere, come si debba procedere realizzando alcuni hub, probabilmente per ciascuna forza di polizia, che saranno anche al servizio delle altre forze di polizia. Però è ancora da definire tutto questo. Il servizio aereo dell'arma ha avviato da tempo una politica di razionalizzazione. Basti dire che da 1996 gli elicotteri sono stati ridotti a 43. Oggi gli elicotteri in dotazione all'arma dei carabinieri sono tanti. Gli altri sono stati dismessi o sono in via di dismissione, comunque fuori uso tecnico. Per quanto riguarda l'acquisizione dei velivoli del corpo forestale, la previsione è quella di acquisire alcuni velivoli del corpo forestale, in particolare gli NH500 dovrebbero essere, e alcuni altri velivoli fermo restando che quelli destinati a funzioni antincendio dovrebbero passare tutti ai vigili del fuoco. In ogni caso prevediamo, per quello che riguarda il corpo forestale, evidentemente, l'accorpamento delle rispettive capacità di settore, razionalizzazione totale del supporto e estensione delle capacità manutentive in house che abbiamo noi, anche ai nuovi velivoli del corpo forestale. Per quello che riguarda i carabinieri ausiliari, mi si chiede, posto che vi sono carabinieri ausiliari che hanno a suo tempo prestato servizio, onorevole, diciamo, nell'arma dei carabinieri, e che poi non sono stati arruolati a suo tempo per mancanza di disponibilità di posti, se vi sia oggi la possibilità, l'intendimento di arruolarli oggi. La situazione è quella. Nel 2000, è questa che vorrei descrivere, nel triennio 2002-2004, abbiamo dato, in vista della sospensione della leva, abbiamo dato il massimo impulso alle emissioni di carabinieri ausiliari, assegnando loro il 30% di tutti gli arruolamenti ordinari, e tutti i posti non coperti della 70% riservato, invece, ai volontari delle forze armate. Quasi tutti i carabinieri ausiliari che erano in servizio nel 2005-2006, che ne hanno fatto domanda, sono riusciti così a transitare. Ancora nel 2005, nell'ambito delle assunzioni destinate al carabiniere di quartiere, a suo tempo, era stato previsto che l'incremento organico di 770 unità fosse tutto assegnato ai carabinieri ausiliari. E così è stato. Fino al 31 dicembre 2015, con norma di legge, l'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare, come sapete, l'arruolamento è stato riservato tutto ai volontari delle forze armate. È da quest'anno che noi avremo la possibilità di inserire il 15% dall'esterno. Ora, in questo ambito del 15% non possono rientrare i carabinieri ausiliari congedati a suo tempo, che oggi hanno un'età intorno o superiore ai 35 anni, i giovani di cui si parla. Quindi, servirebbe un intervento di rango primario, comporterebbe comunque questo intervento, l'assunzione dei carabinieri di questa età. Questo non è in linea con le esigenze istituzionali che abbiamo, perché noi abbiamo oggi un'età media che è intorno, o poco meno adesso, ai 42 anni. Diminuirà sicuramente con le emissioni che abbiamo adesso, va bene? E abbiamo quindi tanto personale che ha un'età per la quale è più proficuamente utilizzabile in compiti d'ufficio o comunque non in determinati compiti. Quindi, la nostra esigenza attualmente è quella di carabinieri più giovani. Però, ricollegandomi anche, ricollegandomi se è possibile, a un'altra domanda che ho avuto a riguardo, cioè se vi sia la possibilità di prevedere un impiego per essi, per questi ragazzi, per questi uomini, queste persone che sono in congetto da così diversi anni che mi è stata fatta, credo, non ricordo se è dall'onorevole Rizzo o dall'onorevole Basilio. Ecco, sì, è un onorevole Basilio. Direi, noi auspicheremmo che essi possano essere impiegati utilmente nell'amministrazione dello Stato, perché hanno lavorato e hanno lavorato bene, evidentemente, e danno l'opportunità di rendere ancora servizio. Possibilità di impiegarli in altre amministrazioni dello Stato, dove la loro età, la loro professionalità consentono di ben utilizzarli, sarebbero ben viste, ben venute, senz'altro da noi, e ben venute per loro, ma anche per i carabinieri oggi in servizio. Onorevole Rizzo, le sue due domande. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche il generale del Sette. Sì, porrei in evidenza due domande, che sono una che riguarda la rappresentanza militare, quindi le sentenze della CEDU, e poi l'ultima che riguardava i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici. E l'altra, scusi? Quella che riguarda... Sì, la sentenza a cui fa riferimento è la sentenza 10.609, barra 10 del 2 ottobre 2014 dell'ACEDU. È stata emessa a seguito del ricorso di un gendarme francese ed era volta a riconoscimento del diritto di partecipare ad associazioni tra militari in servizio e in congedo. La sentenza, in sintesi, secondo quello che noi abbiamo rilevato, ha ribadito che gli Stati membri possono imporre legittime restrizioni al diritto dei membri delle Forze Armate di costituire e aderire a associazioni sindacali, stabilito che le citate limitazioni, non potendo intaccare la reale essenza del diritto sindacale, non possono risolversi nel divieto assoluto di costituire un sindacato o di aderirvi. Il Governo francese, per quanto sappiamo, ha promulgato in conseguenza, in esecuzione della sentenza, la legge 28 luglio 2015, con la quale ha confermato il divieto di sciopere e di adesione ad associazioni di natura sindacale, consentendo ai militari in servizio di costituire associazioni professionali finalizzate alla promozione e alla salvaguardia della condizione militare che possono partecipare, con gli organismi di rappresentanza militare già previsti dall'ordinamento francese, alle procedure di concertazione con il Governo e al dialogo con i vertici militari della difesa. Quanto alla rilevanza delle sentenze CEDU nell'ordinamento nazionale italiano, chiaramente credo che sia argomento dibattuto, quindi più di tanto non posso dire che loro già conoscono o di diverso. In ogni caso, credo di poter citare la sentenza del 2015, la 2866 del Consiglio di Stato, per la quale queste pronunce hanno efficacia indiretta nei confronti degli Stati diversi da quelli nei cui confronti sono emesse. Questi Stati possono scegliere le misure più idonee per l'attuazione dei principi sanciti negli atti giurisdizionali della Corte. Per valutare l'effettiva portata di queste pronunce, comunque di questa pronuncia in particolare, e le conseguenze nel nostro ordinamento, io credo sia opportuno analizzare nell'insieme la disciplina dello status militare. Questo per constatare quanto quel diritto sia stato riconosciuto nell'uno o nell'altro ordinamento, o come sia stato esso disciplinato. C'è poi una sentenza ancora della Corte Costituzionale, però vorrei porre l'accento sul fatto che la sentenza della Corte, perché è a noi noto, perché sia noto a tutti, la sentenza della Corte è intervenuta in un ordinamento, quello francese, in cui c'era una rappresentanza militare, ma non era come la nostra rappresentanza militare, perché mentre nella nostra rappresentanza militare gli appartenenti sono eletti, sono eletti dalla base, poi sono eletti dal livello intermedio, e poi dal livello intermedio sono eletti al livello centrale, lì sono nominati dai comandanti, dalla gerarchia. Quindi i rappresentanti della rappresentante, non c'è una forma di elezione, cosa che nel nostro ordinamento non esiste. E quindi questo credo possa avere un significato. Quindi credo che potranno ben valutare, governo e Parlamento, i contenuti della sentenza e ai fini di un'eventuale modifica di disposizione di legge ispirati a principi che possono apparire ben compatibili con il dettato della Convenzione e con la lettura che di essa fa l'acedo, a nostro giudizio. Peraltro, noi sappiamo che la Commissione, questa Commissione, sta esaminando alcuni progetti di legge di riforma della rappresentanza militare. mi consentano di dire che tutti noi auspicheremmo che questi progetti possano tradursi in un provvedimento di legge, se questo sarà possibile. Perché la rappresentanza militare, che è un istituto, che a mio giudizio sono oltre 45 anni, che milito, ed ho fatto parte del primo, Cobar, nell'anno di Grazia, credo 81, una cosa del genere, è un organismo che può funzionare, che può rappresentare le attese e le esigenze del personale, sebbene regolato, sebbene attuato, così come credo avvenga da noi per quanto ne so io, data la mia conoscenza personale. Certamente, a distanza di tanti anni, può essere aggiornato, può essere rivisto, secondo come il Parlamento intenderà, coniugare questi principi. In ogni caso, io credo che sia opportuno tenere presente la necessità che i diritti, ma anche gli interessi legittimi e le attese del personale vengano tenute nella considerazione più alta all'interno dell'amministrazione e al contempo che siano tenute presenti le esigenze di funzionalità di un'amministrazione come quella militare che è a compiti di difesa dello Stato e della sicurezza dei cittadini. L'auspicio è che questa riforma possa essere portata avanti e andare in porto. Io so che c'è interesse, c'è determinazione nella Commissione, di questo a nome anche, penso, degli altri vertici militari vorrei ringraziare di tutto questo e di questo interesse. per quanto riguarda la questione della i limiti di età la questione dei limiti di età scusi un attimo vorrei cogliere la domanda l'essenza eccola qui si riferisce alla sentenza della Corte Europea che ha stabilito che non si possono imporre limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e nella constatazione che nel settore per i prossimi concorsi aperte ai civili il limite per i carabinieri sarà per i 26 anni non ci sono state modifiche legislative in questo senso perché dice perché questo quando i carabinieri in servizio operativo con età tra i 30 e i 40 anni danno garanzie senza altro di poter svolgere appieno le proprie attività allora io ho preparato una risposta più articolata ma vorrei se possibile dare un'indicazione di questo tipo innanzitutto è un problema legislativo e questo è chiaro c'è poi e ci sono altri problemi problemi di funzionalità va bene e problemi personali del personale cioè voi sapete che uno dei problemi più grossi per cominciare da quest'ultimo perché secondo me è il più rilevante uno dei problemi più grossi è quello della previdenza complementare cioè i militari arruolati da vent'anni a questa parte avranno e infatti in un'altra domanda se ne parla qui con riguardo a questo avranno un'età contributiva praticamente estremamente cioè scusi avranno una pensione essendo ormai per loro completamente invalso dall'inizio il sistema contributivo avranno una pensione che di poco se così sarà si discosterà dal 50% della retribuzione in servizio 55% e questo è il conteggio più o meno che è estremamente basso e tale da sicuramente determinare una situazione estremamente deteriore al limite per molti militari e insomma della pensione minima dopo anni di servizio ora diminuendo il numero degli anni di servizio e chiaramente questo problema aumenta tanto di più per essi aumenta quindi più anni di servizio possono fare in questo senso e meno diciamo risentono di questa situazione meno anni di servizio fanno e meno sarà quello che potranno percepire quindi questo dal punto di vista loro dal punto di vista funzionale ci sono una serie di servizi che meglio possono essere fatti salvo eccezioni da chi è in condizioni fisiche di resistenza fisica allo stress psicofisico in generale e diciamo più migliori per un'età più giovane ci sono i servizi non solo quelli di ordine pubblico ma immaginati quelli con turnazioni H24 sul terreno radiomobile e tant'altro non solo per ragioni poi diciamo di resistenza fisica ma anche per ragioni altre che possono essere quelle dell'assenza di un carico di famiglia con altre esigenze eccetera che richiedono quindi una continuità di questo tipo questi servizi indubbiamente meglio possono essere svolti da militari da appartenenti all'arma dei carabinieri ma alla forza di polizia più giovani ancora un'altra considerazione ci sono nell'arma dei carabinieri tanti luoghi tante caserme tanti uffici stazioni nelle quali è difficile poter vivere per militari che abbiano una famiglia e che abbiano esigenze di lavoro del coniuge esigenze scolastiche dei figli eccetera allora tutto questo fa sì che ci sia l'esigenza di disporre di un numero di militari adeguatamente giovane da poter impiegare per diversi anni e poi non c'è dubbio che i militari gli appartenenti all'arma così come penso a qualsiasi altra amministrazione che hanno già fatto 10 15 20 anni di servizio hanno professionalità sicuramente superiore rispetto a quelli che hanno meno esperienza se non altro perché alla formazione iniziale hanno accumulato un'esperienza che per noi è importantissima perché si impara più dalla vita dalla strada dalla vita di tutti i giorni magari in una stazione in una compagnia in un nucleo operativo dove che volete piuttosto che su tanti libri ecco io vorrei poter dire questo poi sarà nelle valutazioni del Parlamento indicarci come dobbiamo regolarci noi oggi così possiamo regolarci voi sapete che questo problema e mi ricollego anche se è possibile un'altra domanda molto importante che è stata fatta vorrei quella relativa alla e credo io di aver risposto un po' anche per la previdenza complementare se posso completare questa risposta prima per la previdenza complementare mi si chiede se noi io sono dell'avviso di dover introdurre quanto prima delle iniziative delle misure per poter avviare a soluzione questo annoso problema nell'ambito dell'arma non c'è dubbio ci lavoriamo su questo perché è un problema ve l'ho detto per i giovani forse è il problema più grosso c'è il problema che stiamo affrontando che è quello del riordino dei ruoli il riordino dei ruoli è veramente un obiettivo importante che noi speriamo possa essere raggiunto nei tempi previsti dalla delega ma non meno importante e soprattutto per coloro appunto che hanno da vent'anni in qua di servizio che sia risolto il problema della previdenza complementare più volte abbiamo avanzato questa richiesta ma ci stiamo muovendo anche per quello che riguarda le nostre possibilità lo stiamo affrontando per vedere se è possibile introdurre forme volontarie di contribuzione da parte dei carabinieri per fondi che in qualche modo possano venire incontro a questa esigenza così come abbiamo fatto ieri soltanto ci tengo a dirlo perché è frutto di un lavoro dello stesso tipo abbiamo sottoscritto con una grossa assicurazione e un'assicurazione sanitaria per i grandi interventi e le malattie più gravi che con costi estremamente contenuti dato il numero dei carabinieri riesce a dare un servizio assai più costoso altrimenti allo stesso modo stiamo cercando di fare in questo campo che tutti si aspettino nell'ambito del comparto della sicurezza e della difesa e credo del soccorso pubblico senz'altro che la questione della previdenza complementare possa essere affrontata per essere avviata soluzione credo che sia nella vostra piena conoscenza la questione cui mi volevo ricollegare a proposito della età era venuta qual era dunque ah ecco estendere all'arma dei carabinieri le modalità di reclutamento dei WFP1 magari partendo da una sperimentazione su piccoli numeri del gruppo partito democratico ora è una domanda evidentemente su un argomento estremamente delicato e tanto più lo è magari per il comandante generale dell'arma dei carabinieri c'era un comandante generale dell'arma dei carabinieri poiché ha avuto modo anche di approfondire dall'interno le problematiche di tutte le forze armate come è capitato a me nei quattro cioè nell'incarico di capo ufficio legislativo che ho avuto il privilegio di avere con quattro ministri della difesa e nell'incarico anche di capo di gabinetto che ho avuto ancora il privilegio di avere con l'attuale ministro della difesa io credo che questa ipotesi può essere approfondita attraverso il confronto tra le forze di polizia e le forze armate o comunque coinvolgendo comunque nel confronto le forze armate nella considerazione che questa modalità di reclutamento da una parte consentirebbe alle forze di polizia di selezionare direttamente risorse molto giovani da immettere in servizio già nel ruolo iniziale con costi più ridotti nei primi anni di ferma e concorrendo a risolvere in buona parte il problema dell'inalzamento dell'età media dall'altra però ridurrebbe le possibilità di ricollocamento per il personale in uscita da esercito marino e aeronatica che non è assorbito in servizio permanente nelle tre forze armate in altre parole a mio giudizio occorre valutare molto bene quanto questa ipotesi sia compatibile ovvero invece vada a collidere con le misure per la professionalizzazione dello strumento militare i cui effetti possono e devono essere mitigati attraverso l'arruolamento nelle forze di polizia e nell'arno in cui parlo dei VF più uno di più giovane età e con la possibilità di dare attuazione al modello professionale previsto dal libro bianco per la sicurezza e la difesa 2015 in questo senso credo vi sia un serio timore da parte delle altre forze armate serio timore che dovrebbe essere preso in forte considerazione prima di assumere ecco una decisione di questo tipo il gruppo PD ha altre domande da segnalare sì presidente ringrazio due di queste in realtà sono state riassorbite nella discussione quest'ultima era appunto l'avevamo proposta e questa mi sembra una risposta puntuale mi permetto di aggiungere un'altra allora ed è quella relativa alla politica degli alloggi che mi pareva fosse un elemento interessante sì allora per quanto riguarda gli alloggi ecco io ho dato la potrei leggere perché è abbastanza breve noi abbiamo bisogno di unità abitative perché per assicurare costantemente e rapidamente la disponibilità del personale tanti più alloggi abbiamo parlo in particolare dell'organizzazione territoriale certamente tanto più abbiamo la possibilità di avere personale più immediatamente più facilmente disponibile sicurezza delle caserme immaginate le stazioni dove ci sono 4, 5, 8 militari quindi esigenze le famiglie dei carabinieri e questo specie in questo caso per i ruoli e gli incarichi che sono soggetti a maggiore mobilità generalmente gli ufficiali per gran parte della carriera si muovono con una frequenza che va dai 3 ai 5 anni generalmente voi sapete poi più rapidamente in genere secondo il profilo nel ruolo normale meno rapidamente nel ruolo speciale fino a che i due ruoli saranno distinti oggi disponiamo di 13.500 alloggi presso i 5.300 complessi immobiliari e caserme di cui disponiamo complessi appartenenti in parte al demanio in parte non maggioritaria al demanio e in parte invece locati o da enti in particolare gli enti territoriali oppure da privati non sono invece alloggi di servizio gli appartamenti che sono offerti in concessione dagli enti locali attraverso appositi bandi pubblicizzati dalle prefetture la loro assegnazione infatti al personale delle forze di polizia dell'arma e delle forze armate avviene sulla base di una graduatoria stabilita da una commissione istituita presso le prefetture di cui fanno parte rappresentanti delle nostre amministrazioni sono condotti questi alloggi direttamente dagli assegnatari in regime privatistico e oneroso con eventuale possibilità di riscatto ecco questa la situazione quindi abbiamo da una parte gli alloggi di servizio per famiglie diciamo dall'altra invece gli appartamenti che sono dati sono riservati fanno nell'ambito di una riserva dalle prefetture dagli enti sul territorio sono dati ai carabinieri che concorrono come gli altri appartenenti alle forze di polizia con questa riserva per questa riserva in questo caso sono gestiti da loro direttamente noi non abbiamo parte gli altri invece sono gestiti dall'arma dei carabinieri e assegnati temporaneamente ai carabinieri per le loro famiglie abbiamo ancora 20 minuti chiedo ai gruppi se hanno altre domande tra quelle segnalate su cui tornare o al generale se ha esigenza di sottolineare qualche questione in particolare di altre domande ad esempio c'erano alcune domande dell'onorevole Artini che pure è presente sulle nostre attività al Coespo in Iraq in Afghanistan eccetera voi sapete ieri abbiamo presentato questa novità dei cosiddetti caschi blu della cultura in realtà era una cosa di cui si parlava da tempo che però è stata ripresa con grande entusiasmo e determinazione dal Ministro dei beni culturali e quindi è stata portata all'attenzione dell'ONU ed approvata dall'UNESCO all'unanimità ieri la direttrice generale dell'UNESCO Irina Bokova è venuta in Italia ed ha firmato l'accordo col governo italiano per l'istituzione di questa task force task force composta non solo da carabinieri del comando tutela patrimonio culturale ma anche da esperti individuati dal Ministero stesso dei beni culturali dal Ministero dell'Università della Ricerca questa task force per noi si tratta di militari già individuati preparati anche alle missioni estere per i civili diciamo così si tratta invece di personale individuato in corso di individuazione esperti che verranno preparati a queste attività nelle prossime settimane sul piano cioè della capacità di vivere in una condizione più difficile di operare più che vivere in una condizione più difficile questo fa parte dell'insieme delle opportunità offerte diciamo dall'arma dei carabinieri per le missi in generale le missioni per la pace e allora internazionali di pace l'attività cui fa riferimento nella domanda nella prima domanda il l'onorevole Artini è quella del Coespu il Coespu questo centro di eccellenza per le polizie di stabilità che è stato individuato istituito già da oltre dieci anni tant'è che abbiamo celebrato diciamo il decimo anniversario insieme all'ambasciatore americano Phillips nel mese di dicembre perché gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti che sono stati copromotori dell'iniziativa tuttora attraverso il Dipartimento di Stato sostengono una parte degli oneri e partecipano alla gestione avendo il Vice Comandante o Vice Direttore del centro che è un colonnello americano questo centro ha formato 8.092 peacekeeper ufficiali funzionari sotto ufficiali di forze di polizia di 97 paesi stranieri una parte all'interno di un programma che è quello sostenuto appunto dal Dipartimento di Stato americano una parte nel quadro delle attività svolte per conto della UE una parte diciamo su attività nazionali per disposizione nazionali dal Ministero degli Affari Esteri in particolare attualmente il Coespo partecipa allo sviluppo della dottrina e dei curricula addestrativi dell'ONU nelle prossime settimane vorrei tagliare dovremmo portare avanti un'ulteriore attività con l'OSCE che ha promosso e finanziato per il corrente anno e per il 2017 una serie di esercitazioni presso il centro di Vicenza per l'addestramento delle forze di polizia e di polizia giudiziaria dei paesi aderenti all'OSCE su alcuni scenari che sono stati definiti e coindicato nella risposta attualmente si occupa il Coespo anche di attività di addestramento all'ordine pubblico di gendarmi turchi 1800 gendarmi ma non in Italia in Turchia attraverso un programma sviluppato quando qualche mese fa dall'Europa Unione Europea parliamo il Coespo è stato assegnatario di un progetto dell'Unione Europea scelto in ragione evidentemente di quello che poteva assicurare io anzi vorrei nella circostanza l'ho anche scritto invitare la Commissione se riterrà una volta di far visita al centro di eccellenza nel prossima primavera sono previsti anche dei corsi importanti degli incontri ci sarà anche una riunione trilaterale Italia-USA-ONU probabilmente sullo sviluppo di quella che ha avuto già luogo a riguardo sull'attività del Coespo alla fine dello scorso anno nella stessa caserma noi dall'anno scorso abbiamo istituito l'ESP-COE che è un centro di eccellenza per SP Polizia di Stabilità della Nato hanno aderito già otto paesi Nato il nono sta aderendo ed è assolutamente straordinario che per un centro di eccellenza uno dei soli due che ha l'Italia l'altro è a Roma ed è dedicato alla simulazione di scenari che l'alleanza può affrontare è all'EUR è uno dei due centri che ha l'Italia di eccellenza Nato l'altra questione è Bagdad a Bagdad noi attualmente abbiamo formato a partire dall'estate scorsa 2000 stiamo ultimando l'ultimo corso finirà l'ultimo l'attuale corso finirà il 3 marzo 2123 poliziotti irachieni di cui il 55% di fede musulmana sunnita e il 45% sciita si tratta di una formazione indirizzata alla Iraqi Federal Police e alla Local Police quest'ultima ritenuta di alto interesse da parte della coalizione anti-Daesh gli allievi provengono da 16 province dell'Iraq questa ripartizione bilanciata è frutto proprio di una specifica richiesta avanzata dall'Italia e dall'arma sia alla coalizione sia alle autorità irachene in realtà anche la coalizione ci ha sostenuto in questo con le autorità irachene questo per sottolineare per sottolineare il ruolo inclusivo e imparziale che le forze di polizia devono avere anche in quel paese e per formare a questo principio i nuovi operatori attualmente ce ne sono 970 che stanno facendo questo corso di cui 300 della Polizia federale quindi sciiti e rimanenti sunniti e si addestrano nella stessa caserma insieme per la gran parte delle attività questa attività noi la estenderemo stiamo aspettando soltanto diciamo stiamo preparando la cosa e le predisposizioni logistiche e tecniche nelle prossime settimane anche vicino a Erbil in Kurdistan questi corsi avranno la stessa contenuto degli attuali corsi di Baghdad c'è da dire che a favore dei corsi abbiamo fatto già due piccoli corsi però di polizia di specialità lì e nell'aeroporto di Erbil presso l'aeroporto di Erbil questa è l'attività per quello che riguarda invece l'Afghanistan mi chiedeva chiedeva l'onorevole Artini partendo dal fatto che a maggio è stato chiuso il field office di Erat che operava nell'ambito di Eupol con funzione di training mentoring strategic advising per i più alti funzionari della polizia di Erat che qual è il futuro più o meno che cosa si prevede di fare se sarebbe possibile riaprirlo noi attualmente in Afghanistan abbiamo un numero di persone estremamente limitato in Erat noi continuiamo a svolgere un'attività a favore della forza di polizia locale soltanto però in Erat essendo stati chiusi gli altri due field office di Mazzara Sheriff e Kabul già da tempo la ragione della chiusura di queste determinate si tratta di Eupol quindi a livello europeo era quella del ritenuto raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati noi continuiamo a mantenere in Afghanistan altre forze anche a Kabul in numero estremamente limitato tra queste io credo sia di interesse l'ufficiale che presta servizio di advisor presso il ministero dell'interno in ragione proprio delle attività svolte d'allarma in questo settore poi se ci sono altre questioni io sono disponibile abbiamo ancora dieci minuti se c'è qualche altra questione su cui qualche collega vuole sollecitare il generale se non abbiamo prego fuori sacco una domanda era una domanda dopo quella fatta dalla collega del PD sugli alloggi il modello diciamo dell'arma dei carabinieri è un modello che nella relazione della Corte dei Conti sugli alloggi militari è stata cioè una proposta della stesso magistrato della Corte dei Conti redattore della relazione che dice potrebbe essere il modello per le forze armate generale lei ritiene che questo sia possibile io la vedo da carabiniere diciamo che ha fatto un'esperienza di capo ufficio legislativo però è di capo di gabinetto della difesa io credo che sarebbe possibile e per alcuni tipi di reparti forse anche auspicabile perché questo modello consente di avere la disponibilità di un certo numero di appartenenti alla forza armata e diciamo più immediatamente disponibili e consente di impiegare il personale secondo principi di maggiore mobilità cosa che chiaramente da noi viene fatta con oggi con determinati accorgimenti la necessità evidentemente di non spiantare famiglie di non creare difficoltà ulteriori all'interno di famiglie certamente la disponibilità di alloggi aiuta molto in questo senso per tutte e due le questioni e c'è un altro fatto poi ecco questo determina questo modello praticamente l'impossibilità che invece alloggi assegnati temporaneamente poi rimangano nella disponibilità poi perpetua va bene dell'assegnatario quindi in questo modo sì risolvendo il problema alloggiativo dell'assegnatario cosa che è pure importante e non nel secondo momento ma privando via via la forza armata della disponibilità di alloggi che invece possono costituire non solo diciamo strumento di funzionalità ma anche beneficio di quelli che arrivano nuovi che in genere poi hanno anche un trattamento economico più basso perché sono più giovani rispetto a quelli che invece magari fanno servizio da 20 o più anni in questo senso io credo che almeno in parte sarebbe auspicabile poter avere questo tipo di alloggi bene se non vi sono altre domande per il generale io lo ringrazio per questa sua disponibilità e per la puntualità con cui ha voluto rispondere alle molte domande dei colleghi e anche per il dettaglio che ha fornito e la documentazione che è a disposizione dei colleghi concludiamo qui la nostra audizione non prima di aver ringraziato non l'ho fatto in apertura ma lo faccio ora il generale di divisione Gaetano Maruccia che ha accompagnato il generale del 7 che è sotto capo di stato maggiore del comando generale Carabinieri ancora grazie e poi riprenderemo tra pochi minuti i nostri lavori grazie